Sia lodato Gesù Cristo. Cari fedeli, innanzitutto desidero ringraziare per le belle parole che padre Francesco Di Leo, rettore di questo santuario, mi ha rivolto all'inizio di questa celebrazione eucaristica e devo riconoscere che personalmente conservo un debito di riconoscenza verso padre Pio. Innanzitutto la vicinanza geografica che mi lega a padre Pio. Io vengo da San Severo, San Giovanni Rotonto, lo sapete bene, mezz'ora di strada. Poi un altro motivo, padre Pio è morto lo stesso anno in cui sono nato, a distanza di pochi giorni prima, quindi un altro debito di riconoscenza e poi la sua figura mi ha sempre appassionato. L'ho sempre letta la sua vita con grande interesse e passione. Un altro debito di riconoscenza lo devo ai frati Cappuccini che sono custodi di questo santuario. Debo dire che sono un Cappuccino mancato perché mi sono formato dai Cappuccini, però poi ho scelto l'ordine domenicano di San Domenico, ma Cappuccino penso di esserlo rimasto nel cuore. Tanti frati che si sono alternati nel convento di San Severo e che con la loro vita semplice ed umile dedita al servizio del Vangelo hanno ispirato la mia vocazione religiosa e sacerdotale. Di essi conserverò sempre un grato ricordo. E mi viene dato il compito oggi di chiudere questo novenario in onore di San Pio nella festa di San Matteo, apostolo ed evangelista. Per commentare un po' il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, desidero proporvi un pellegrinaggio. Vi porto a Roma, a San Luigi dei Francesi, di fronte al celebre dipinto che il Caravaggio ha fatto a proposito della vocazione di Levi. Levi sappiamo che è Matteo, è la stessa persona. E se vi ricordate in questo pellegrinaggio, a parte i colori, no? Il Caravaggio, il pittore tenebroso, preferiva le ombre piuttosto alla luce. In questo dipinto ci sono due espressioni che meritano considerazione. Innanzitutto c'è Gesù che guarda Levi. E questo fatto non è neutro. Gesù che passando guarda, ferma il suo sguardo su Levi. Levi sappiamo che era un esattore delle imposte. Quindi un peccatore pubblico per la mentalità del tempo. E Gesù che pone il suo sguardo su di lui. Capite un po' la scena? Dagli altri allontanato, visto con sospetto, perché pubblico peccatore riscuoteva le tasse. E poi lavorava per l'occupante, i romani. Quindi percepiva anche una parcella per lui. Doppio motivo per metterlo da parte. E invece Gesù con il suo sguardo di misericordia, passando, ferma i suoi occhi proprio sul Levi. E gli dice seguimi. Quindi ecco il primo momento. Gesù che pone i suoi occhi misericordiosi su questo pubblico peccatore. E poi, sempre guardando questo dipinto del Caravaggio, noterete anche l'indignazione di Pietro. Ma proprio lui, insomma un po' indispettito. Ci sono tanti altri da guardare e vuoi affermare la tua attenzione, rivolgendosi al Maestro, proprio su Levi. Come non pensare, guardando questa scena, al nostro Santo Padre Francesco, che ha fatto appunto di una espressione di Beda venerabile il motto del suo ministero. «Miserando, atque eligendo» è detto in latino. «Ponendo il suo sguardo miserevole mi ha eletto». Ecco la vocazione di Matteo. «Guardato da Gesù, si è lasciato amare e questo amore lo ha accolto nella sua vita, seguendo Gesù». Ancora, nella colletta, questa orazione che ha recitato il Presidente per tutta l'Assemblea all'inizio della Messa, ho pregato in questo modo. «O Dio Onnipotente ed Eterno, fa che corrispondiamo fedelmente alla nostra vocazione e ti serviamo tutti i giorni della nostra vita. Corrispondiamo fedelmente alla nostra vocazione». Così come il Signore ha posto il suo sguardo sullevi, pone il suo sguardo su ciascuno di noi, ci guarda con occhi di misericordia, al di là del nostro peccato e delle nostre miserie. Il suo sguardo ci fa nuovi. Il suo sguardo ci riempie. Il suo sguardo fa di noi uomini capaci di amare. perché amati possiamo amare. Se siamo amati da qualche altro, in questo caso da Gesù stesso, da Dio, siamo resi capaci di amare. E poi corrispondiamo fedelmente alla nostra vocazione e ti possiamo seguire tutti i giorni della nostra vita, proprio seguendo l'esempio di Levi, Matteo, che si è messo al seguito di Gesù, ha intrapreso il cammino duro della sequela. sequela, sapete che significa? Seguire dietro. Il verbo tipico del Maestro è precedere. È Gesù che precede i discepoli. Ma gli apostoli, i discepoli, sono coloro che seguono e si segue stando dietro al Maestro, mettendo i nostri passi nei Suoi passi, nelle Sue orme che ci precedono. E allora, seguire tutti i giorni della nostra vita domanda impegno, costanza e dedizione. impegno, ogni giorno, costanza e dedizione, rinnegare se stessi per seguire Gesù Cristo, l'unico Maestro, l'unico Signore. E quindi, vedete, credo che con queste considerazioni non si possa chiudere meglio la novena in onore di San Pio. La sua potente intercessione ci indica proprio questo. Corrispondiamo fedelmente alla nostra vocazione, allo sguardo di amore di Gesù che ha posto per ciascuno di noi. e abbiamo il coraggio di seguirlo tutti i giorni della nostra vita, proprio lasciandoci ispirare dall'esempio di San Pio che ha abbracciato la croce di Gesù e l'ha seguito giorno dopo giorno sino alla fine. Che il Signore onnipotente e misericordioso rivolga ancora su tutti noi e su tutti i fedeli di San Pio il suo sguardo misericordioso e ci doni proprio per intercessione di San Pio di aderire fedelmente a questa chiamata e di seguirlo tutti i giorni della nostra vita. Siano dato Gesù Cristo. Amen.